Ciao ragazzi e benvenuti sul canale, ci siamo eh, siamo tornati e torniamo subito così, ok? 100 euro, sono 50 litri, a 1,99, che me non l'ho trovato, si va! Oh yeah! Oh yeah! Ecco, tempi di guerra! Bisogna farlo così, anzi pure carestia di acqua, costa pure meno l'acqua, eh! Eh no, sei pronto! Eh no, vai, eh no, vai, nonostante! L'ho già tentato pronto, eh! A 50! Ma che fine che avevo fatto, guarda qui! E accoglie! E accoglie! Allora, magari sei... E risponde, cuore, 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 cuore! Gia, lessa! E ciò... E c'è chi non è che cosa? Aspetta, guarda, 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 guarda. E mi ricordo come ha il sapone. Guarda, guarda, l'acqua di... Guarda, lì, la cucina... Bella, raga, siamo partiti, finalmente, autostrada verso le Marche. Lungo il percorso stiamo vedendo dei fuochi, degli incendi, scusate, anche abbastanza vistosi. Non so se riuscite a vederlo lì, uno. Un fuoco molto intenso, insomma. Più di uno. Ben tre, ragazzi. No, no. Mi mettiamo a fuoco con l'intera collina. Aspetta, non è così. Va bene, a dopo, dai. Ecco, se potete vedere... Un settino, ragazzi. Facciamo un giro. Yeah. Yeah. Yee-hô. Grazie. Grazie a tutti. 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 Andiamo a vedere gli altri che si svegli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a tutti. Andiamo a tutti. Grazie a tutti. Andiamo 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 a tutti. Undiamo a tutti. che buona sangria buongiorno oggi siamo di mare siamo qui al riva verde delle Marche questo è il mare alle spalle c'è tutto il campeggio qui c'è l'accesso al mare molto comodo e funzionale l'acqua che sta qui pulito ma l'atriatico insomma è questo non è limpido però dai ci accontentiamo bene così ieri l'animazione ha organizzato un evento in piscina a mezzanotte hanno aperto tutto e ci siamo fatti il bagno devo dire è molto carino perché l'acqua era calda e è stata una cosa molto simpatica il campeggio è organizzatissimo ci sono tutti i servizi pulito tutto abbastanza nuovo e sono tutti cordiali e gentili questo fa sì che ti rende il soggiorno molto piacevole insomma si sta benissimo poca gente lì troviamo i campi da calcio e beach è vero c'è l'acostrada e il treno però insomma dai se sta benissimo un saluto ragazzi a dopo qui l'acqua bassa l'acqua bassa bellissimo ragazzi guardate che terrazza sul mare bello bella terrazza sul mare stiamo là sotto a mangiare scivoli tutta la struttura lancia e pensate qui a tutto posto, arriva al mare, si sono superati, ha detto fate voi, ci ha portato il pallone con i bomboli guarda qua ha girato si basta al pentolone qui 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 qui